Spettabile Presidente Onorevole Antonio Di Pietro Segretario Onorevole Ignazio Messina A conclusione del completamente inerente al mio curriculum vita come avete potuto ben leggere la mia vita è stata vissuta fino al 1969 da cittadino italiano e dal 1969 al 1973 da cittadino europeo avendo vissuto e lavorato in Germania e dal 1973 fino ad oggi da italiano mi rivolgo a tutti voi i miei concittadini militanti di Italia dei Valori che possiate darmi il vostro consenso per fare il bene non di pochi ma di centinaia di milioni concittadini europei viva l'Italia dei Valori viva l'Europa viva l'Italia viva l'Italia viva l'Italia